Vediamo adesso le forme semi-regolari del passato remoto. Le grammatiche le chiamano irregolari, io preferisco chiamarle semi-regolari e vedrete poi perché. Innanzitutto una brutta notizia. Moltissimi verbi del passato remoto sono irregolari e moltissimi di questi verbi sono della seconda coniugazione, cioè i verbi in ere. Vediamo un esempio, per esempio scrivere. Scrissi, scrivesti, scrisse, scrivemmo, scriveste, scrissero. Confrontiamolo adesso con un verbo regolare come temere. Innanzitutto le buone notizie. La seconda persona singolare, la prima persona plurale e la seconda persona plurale, cioè tu, noi e voi, sono regolari. E si formano come si formavano i verbi al passato remoto, regolari. Cioè io prendo scrivere, tolgo re e aggiungo sti, mo, ste. Ok? La prima persona, la terza persona singolare e la terza persona plurale, invece sono irregolari. E sono totalmente regolari. Cioè, tanto la radice, scrisse, come la terminazione sono diverse. Quindi io ho scrissi, invece di temei. E partendo da scrivere, ho scrissi, quindi dovrò imparare anche la radice. Poi ho scrisse, senza accento, invece di teme. E poi ho scrissero, invece di temerono. Vedete quindi che anche le terminazioni sono diverse. Ok? La buona notizia è che anche nei rari verbi inire, come apparire, le terminazioni non cambiano. Cioè, è come se fosse sempre la stessa coniugazione. Quindi io ho scrissi, apparvi, poi la seconda persona che si forma regolarmente, quindi scrivere, scrivesti e apparire, apparisti. Poi scrisse, apparve, scrivemmo, apparimmo, scriveste, appariste e scrissero, apparvero. Non è necessario, quindi, imparare tutta la coniugazione per tutti i verbi. Una volta che uno ha imparato un modello, basta sapere la prima persona dell'irregolare e da lì si possono derivare tutte le altre. Per facilitare la memorizzazione ci sono delle liste. Io ve ne ho lasciata una nel Google Drive. In cui i verbi vengono raggruppati in gruppetti, dipendendo dalla terminazione dell'infinito. E si fa notare come spesso questi verbi abbiano una terminazione simile al participio. E come questi stessi verbi si comportino nello stesso modo al passato remoto. Per esempio, molti verbi che finiscono in dere hanno il participio in so e il passato remoto in si. Quindi, prendere, preso, presi, scendere, sceso, scesi. Tutti i verbi che finiscono in gere hanno il participio passato in to e il passato remoto in si. Per cui, togliere, tolto, tolsi, scegliere, scelto, scelsi. Molti verbi che finiscono in gere hanno il participio passato in to e il passato remoto in si. Per cui, dipingere, dipinto, dipinsi e piangere, pianto, piansi, eccetera, eccetera. In questo modo è più facile memorizzare i verbi.